Un weekend in compagnia dei Bloodhound, i cani molecolari dalle caratteristiche orecchie lunghe pendenti sono stati protagonisti a Travo. L'associazione Tosca K9 in Italia ha portato nel paese della Val Trebbia alcuni esemplari dei segugi più famosi al mondo per un'esercitazione e ricerca persone scomparse. Abbiamo colto con favore questa richiesta che ci è stata fatta da un'associazione prima in Italia. Questo perché purtroppo è diventato anche all'onore delle cronache la scomparsa di persone e la difficoltà nel ritrovarle. Vogliamo far vedere come lavorano i cani da mentreni, cani di ricerca individuale. Ci alleniamo qui e speriamo che la gente si accorga di noi, della nostra presenza. E poi se hanno bisogno noi siamo disponibili, non c'è nessun problema. Noi insegniamo al cane a seguire un odore specifico della persona da ritrovare. Noi si lavora su campione di odore. Usiamo una qualsiasi cosa della persona da cercare, per poi il cane glielo facciamo annusare e da lì il cane parte e ripercorre tutto il percorso che questa persona ha effettuato. Una disciplina che ha bisogno di continui aggiornamenti, di continui addestramenti sia dell'animale ma soprattutto del conduttore. Sì, bisogna già far conto che per rendere un cane operativo ci vuole almeno tre anni di lavoro. È un lavoro da tenere costantemente allenato sia cane che conduttore.